13 anni fa l'Umbria Volley ha iniziato la sua avventura nella Serie A della pallavolo maschile. Oggi scrive la parola fine. Il club in un breve comunicato chiarisce le motivazioni che hanno spinto la società a prendere una così sofferta decisione. Il presidente dell'Umbria Volley San Giustino Claudio Sciurpa con grande amarezza e delusione comunica che la società non potrà riscriversi al prossimo campionato di A1. Sono state percorse tutte le strade possibili, si legge ancora, nella convinzione di ritrovare condizioni economiche e motivazioni per mantenere San Giustino ai massimi livelli del volley. Ma preso atto che gran parte del nucleo storico di soci e principali sponsor non garantisce più il proprio sostegno al club, la società ha verificato che non ci sono le condizioni per proseguire. Finisce così un progetto sportivo avviato 13 anni fa con 10 anni di Serie A 1. Seguono una serie di sentiti ringraziamenti a tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto la società Umbra. Un ringraziamento particolare a chi ha reso molto speciali gli ultimi due anni di attività e cioè i tifosi di San Giustino della Fossa Lupi e Bufali che, conclude il comunicato, meriterebbero una squadra di primissimo livello. Paola Costantini, Tef Channel News, San Giustino, Perugia.